Sindaco, lei ha deciso di consegnare il sigillo della città all'ospedale, un ideale riconoscimento a tutti coloro che hanno operato in prima linea. Durante la chiusura totale, durante il lockdown, spesso si è parlato di eroi, riferendosi a infermieri, operatori sanitari, medici di base, medici ospedalieri e ovviamente tutti coloro i quali hanno collaborato alla gestione dell'emergenza, protezione civile, forza dell'ordine, istituzioni. Credo però che l'ospedale rappresenti simbolicamente il luogo in cui c'è stata professionalità, competenza, generosità, altruismo e conseguentemente credo che l'amministrazione debba dare un segno tangibile, concreto dell'affetto e anche del ringraziamento, le gratitudini della comunità nei confronti di chi lì dentro ha operato e di chi ha collaborato. Il sigillo della città è il riconoscimento più alto che il comune può dare. Il 29 ospiteremo tre medici, il presidente del collegio dei primari, il responsabile della terapia intensiva, il responsabile della medicina, cioè tre che sono stati davvero in trincea durante l'emergenza Covid e a loro consegneremo idealmente il sigillo, idealmente perché? Perché viene dato a loro ma in realtà è una sorta di ringraziamento corale a tutti coloro i quali hanno operato in prima linea. Ecco, una cerimonia che si svolgerà peraltro durante il consiglio comunale di Pordenone e lei anche ha detto che è un riconoscimento simbolico a tutta la città. Ma è così, infatti, durante il periodo del lockdown, tendo a sottolineare che l'emergenza non è finita, quindi prudenza e responsabilità devono ancora farla da padroni, questa cittadinanza si è comportata in maniera esemplare, con responsabilità, con sesso civico, con diligenza. Ci sono stati pochi casi, pochi casi, di persone che non hanno voluto rispettare le regole. La stragrande maggioranza ha rispettato, ha osservato le prescrizioni, le indicazioni, i suggerimenti e ha contribuito a fare in modo che il Friuli Venezia Giulia sia una regione dove questo virus ha colpito meno che altrove. Non solo, questo consiglio sarà l'occasione per dare il sigilo, ma anche per ascoltare, dalla viva voce dei protagonisti, cosa è successo e come dovremo comportarci in futuro, qual è la situazione all'interno dell'ospedale, come siamo attrezzati, quali sono i punti forti e i punti critici. Grazie.